ben ritrovati a parlare di update e ci troviamo in bridge e nella nuova versione di bridge se andiamo a vedere e la prima cosa che notiamo che è cambiato con questo update tutta la presentazione tutta la schermata diciamo introduttiva dell'adobe bridge è diventato nero e soprattutto con questo quadrato con gli angoli rotondi come lo è diventato anche photoshop e altri software e da bridge adesso prendo queste immagini e passo ad adobe camera raw perché in questo video training voglio farvi vedere come è cambiato invece l'interfaccia di adobe camera raw 12.3 e voi vedete già come impatto è cambiato molto allora innanzitutto vediamo che se apriamo più immagini questi sono elencati qua sotto non più al lato in realtà poi è una vostra scelta perché cliccando qui su questa questa iconcina tenendo premuto il mouse voi vedete che volendo voi potete anche visualizzarli verticalmente tornare a una visualizzazione verticale oppure semplicemente con un clic non fare vedere le altre immagini oppure appunto tornare a vederle orizzontalmente se non doveste vederle orizzontalmente basta trascinare un po magari c'è non c'è abbastanza spazio e dunque questa è la prima modifica poi guardiamo qui a destra a destra è cambiato molto il primo impatto è totalmente diverso eravamo abituati per tanti anni ormai avere le schede di lavoro la base curve dettagli così via elencate in orizzontale qui vicino adesso il look è decisamente più moderno e decisamente si vede anche meglio perché c'è più spazio tutte le schede sono elencate verticalmente e con la freccia cliccando possiamo aprire o chiudere queste schede abbiamo schede con nomi diversi nomi nuovi ad esempio la trasforma che tra l'altro prima faceva parte delle modifiche locali anch'esse ora si trovano elencate verticalmente a destra e non più qui in alto questa trasformazione che prima faceva parte appunto delle schede locali ormai si chiama geometria e fa parte di un pannello principale forse qualcuno di voi si ricorderà che inizialmente in effetti era un pannello e poi è passato tra le modifiche locali adesso è tornato col nome geometria tra i pannelli e anche la scheda il pannello hsl ha subito delle modifiche intanto adesso si chiama mixer colori e vedremo tra un attimo anche i cambiamenti all'interno della scheda ma vediamo un po la gestione di questi nuovi di questi nuovi pannelli allora intanto cliccando col tasto destro del mouse potete decidere la visualizzazione multipla dinamica o singola questo vuol dire che posso vedere se clicco ad esempio modalità pannello singolo posso vedere un pannello alla volta se clicco su base e poi clicco su curva voi vedete che automaticamente la base si chiude e rimane aperta la curva diversamente se scelgo pannello dinamico qui dipende dallo spazio se ho ad esempio una visualizzazione del camera raw su tutto schermo che io adesso non ho per una questione di spazi di registrazione e avete più spazi potete tenere aperto più più pannelli alla volta però sempre solo fino a quando l'ultimo pannello ha lo spazio totale da essere visualizzato altrimenti se così non fosse si chiude anche il pannello precedente e poi naturalmente pannello multiplo vuol dire che posso aprire più pannelli alla volta vedete cliccando adesso aperto più pannelli alla volta posso premere il tasto control e chiudere tutti i pannelli in una volta command per gli utenti di mac e in questo modo passo comunque in modalità temporanea singola un'altra cosa molto interessante è la possibilità di ripristinare se io premo il tasto alt oppure opzione per gli utenti di mac voi vedete che automaticamente ogni scheda ogni pannello anzi avvicino la parola ripristina e dunque mi è molto facile scegliere quale scheda o quale pannello voglio ripristinare appunto tenendo premuto il tasto alt oppure opzione e poi avete visto che c'è anche questo occhietto anche questo è interessante guardate se io effetto una modifica ad esempio rendiamo il tutto più scuro magari qui rendo un po meno scuro e qui nella divisione toni creiamo una divisione toni qualunque non è tanto importante e solo per far vedere le modifiche ok adesso premo il tasto control per chiudere tutte le schede innanzitutto voi vedete subito in quale schede sono state effettuate modifiche e questo mi piace veramente tanto perché mi evita di andare spulciare ogni scheda e vedere dove ci sono delle modifiche e guardate tenendo premuto il tasto del mouse sull'occhio vedo l'anteprima vedete vedo il prima e il dopo e anche qui vedo il prima e il dopo dunque questo lo trovo veramente molto molto comodo adesso premo il tasto alt e dunque ripristino la base e ripristino divisione toni vedete sono passata alla mia immagine originale poi un'altra novità è lo zoom che viene utilizzato adesso la zoomata è come lo era in photoshop vedete trascinando mi avvicino e la zoomata è diventata molto fluida molto morbida e dunque spostandomi verso destra aumento la zoomata col mouse spostandomi verso sinistra diminuisco la zoomata e come avete visto è decisamente molto molto fluido se però qualcuno di voi preferisce la modalità di con un click di avvicinarsi come è d'altra parte era il sistema di lightroom potete ancora farlo qui in alto nella rotellina delle impostazioni che adesso andiamo a vedere o qui in generali questa voce zoom and panning usa zoom and panning per lo stile di lightroom dunque clicco attivo e voi vedete adesso clicco e automaticamente porto alla visualizzazione del 100 per cento su questa zona oppure clicco qua e porto al 100 per cento vedete questo è un modo un altro modo è quello appunto che si usava in lightroom se preferite questo modo attivatelo io personalmente preferisco invece il modo di trascinare per visualizzare e dunque disattivo questa voce torniamo adesso a vedere i pannelli abbiamo detto che mixer colori presenta delle novità adesso cambio magari immagine andiamo a vedere questo mixer colori allora è intanto la appunto il nome precedente era hsl hue saturation luminance tonalità saturazione e luminanza e adesso invece mixer colori effettivamente rende più l'idea voi vedete che ancora adesso abbiamo tonalità saturazione e luminanza ma a differenza di prima adesso c'è questo bottone tutto che cliccando mi fa vedere tutte le schede in fila dunque la tonalità la luminanza e la saturazione vedete dunque non devo ogni volta cambiare da una scheda all'altra ma li ho elencati tutti e dunque se volesse aumentare non so la saturazione dei colori arancioni e dei colori verdi qui lo posso fare con i colori gialli e poi semplicemente modifico la tonalità del giallo lo faccio diventare un po più arancione oppure il blu lo faccio diventare un po più ciano il viola un po più blu e questo naturalmente vale anche per la luminanza che posso regolare per ogni colore ma non solo avete notato che ognuna delle schede di allora saturazione tonalità e luminanza hanno questa regolazione mirata e dunque se clicco ad esempio su tonalità e mi posiziono su questo grigio voi vedete che trova appunto il blu e lo modifica ugualmente se sulla saturazione se clicco ad esempio qui su questa zona qui più scura la rendo più intensa oppure prendo la regolazione mirata della luminanza e schiarisco vedete qui ad esempio oppure qui e dunque adesso voi vedete che gli interventi sono diventati molto più semplici perché con questa regolazione mirata naturalmente entriamo direttamente nell'immagine e automaticamente adobe camera raw capisce già di che colore si tratta e lo regola secondo le nostre esigenze possiamo vederlo subito tutto in uno tonalità saturazione e luminanza dunque molto comodo ma c'è un'altra novità molto bella molto interessante parliamo di se clicco sotto hsl abbiamo colori dunque adesso magari cambio di nuovo immagine e guardate qui in colori abbiamo la possibilità di selezionare i singoli colori e regolare la loro tonalità saturazione e luminanza ad esempio seleziono il giallo e vorrei una tonalità un po più arancione maggiore saturazione e maggiore luminanza faccio la stessa cosa col verde qui lo vorrei soprattutto più saturo una tonalità più verde e più scuro oppure più luminanza dunque voi vedete che qui anche questo è un modo molto molto interessante di gestire il colore dunque o l'uno o l'altro dà la possibilità di intervenire sui colori adesso passiamo all'editing locale abbiamo visto che l'editing locale è passato qui a destra in senso verticale e ci sono alcune modifiche anche qui molto interessanti cambio di nuovo immagine una novità che io apprezzo molto che aspettavo è che qui nei pannelli di regolazione che sia il pennello che sia il filtro graduato oppure il filtro radiale alla fine di ogni filtro o di pannello vedete c'è questa voce ripristina automaticamente i cursori questo vuol dire che non è come era prima l'ultima impostazione che è stata effettuata è quella che rimane e dunque se non voglio quell'impostazione devo prima ripristinare tutto per effettuare un nuovo editing locale qui invece lasciandolo attivato e vale appunto per tutti i tre automaticamente parto sempre con tutti i valori zero e questo già mi piace se io adesso qui ad esempio entro qui nella filtra insomma magari non prendo il filtro radiale ma prendiamo il pennello clicco su opzione maschera e vedete ho la maschera automatica attivata per cercare di rispettare un po' i bordi e voglio cambiare solo la parte qui del cielo ok adesso disattivo la maschera parto con tutti i valori zero ok e adesso posso effettuare le modifiche che possono essere il contrasto, l'esposizione o quant'altro e poi sempre per questi tre filtri c'è un'altra novità guardate c'è questa barra tonalità che mi consente per le zone selezionate di cambiare la tonalità se poi attivo ad esempio qui utilizza regolazione di precisione se ad esempio voglio regolazione più precisa clicco sopra e voi vedete che adesso il cambio della barra è molto molto più lento molto più mirato e dunque più preciso vedete anche qui i valori cambiano in modo molto preciso decimale mentre se disattivo cambiando vedete che è un movimento molto più veloce adesso clicco per ripristinare questo pannello naturalmente questo vale anche per il filtro graduato e per il filtro radiale anche qui abbiamo questa barra tonalità e comunque guardate se ad esempio applico qui un filtro graduato e effetto anche qui mettiamo abbassiamo l'esposizione aumentiamo il contrasto e le luci per creare questo effetto qui notate che ogni volta che applico una modifica zonale una modifica locale vicino c'è questo puntino qui ad esempio adesso applico col pennello magari passo qui sopra per creare qui una modifica zonale magari lo facciamo diventare un po' più blu ok e abbasso un po' la saturazione però è cambiato rispetto a prima passo ancora su queste pietre gialle qui e vedete che ognuno degli strumenti che ha subito regolazioni adesso ci avvicino questo puntino bianco che indica che qui abbiamo avuto modifiche e anche questo è decisamente molto interessante poi sempre parlando di regolazioni locali adesso ne aggiungo un'altra e tra l'altro vedete che di nuovo questa è diventata zero e questo è fantastico passo qui sopra ok adesso attivo la mia maschera perché voglio modificare anche qui qualcosa ad esempio lo faccio diventare più giallo e più luminoso però notate che qui sono passata oltre col pennello naturalmente ho il mio strumento gomma però notate che non ha più la dimensione grande uguale come quello del pennello ma guardate col fatto che adesso posso attivare dimensione gomma separata posso tenere la gomma più piccola il pennello ha la stessa dimensione se guardate come la gomma e quasi mai questo funziona bene ho sempre bisogno di una gomma più piccola proprio per pulire i bordi col fatto che attivo dimensione gomma separata voi vedete che adesso ho qui la mia gomma più piccola separata di dimensione e questo lo trovo decisamente molto molto comodo anche questa è una funzione nuova che è sicuramente apprezzabile in Adobe Camera Raw per tornare invece da modifiche zonali di nuovo alle schede basta premere su modifica questo bottone qui questa icona qui o premere il tasto E e si torna alle schede basi avete visto che strumento mano strumento campionatura e griglia si trovano a destra in basso la griglia posso modificarla sia in opacità che in dimensione con questi cursori poi abbiamo lo strumento campionatore e lo strumento mano per salvare l'immagine clicchiamo su questo bottone qui in alto converti e salva si apre questa finestra che è rimasta uguale di opzione di salvataggio e questa finestra è apribile da ognuna delle singole immagini cliccando appunto su questa piccola iconcina mentre i tre punti ci consentono di selezionare tutto copiare le modifiche salvare immagine impostare valutazione e così via dunque questo lo troviamo sulle singole immagini e come ho già detto prima le preferenze possiamo accederle tramite questa rotellina qui in alto e con questo direi che abbiamo visto tutte le novità di interfaccia di Adobe Camera Raw che come avete visto è cambiato notevolmente e a secondo mio parere personale è cambiato in meglio è diventato più moderno come interfaccia si ha una visione migliore delle cose e soprattutto quello che io apprezzo molto è il fatto che appunto sia nelle modifiche zonali che nelle eventuali modifiche globali c'è subito un segno o in questo caso di modifica globale l'occhietto viene visualizzata subito dove si trova questa modifica in che pannello e dunque il giudizio finale su questo update giugno 2020 di Adobe Camera Raw è decisamente più che positivo è un'ottima cosa quindi è un'ottima cosa